Anche le musiche al piano di Nicola Valdarnotti sono state le protagoniste della 43esima edizione della rievocazione dell'antica battitura a Ponte Muriano tanti gli eventi in una ricchissima tre giorni tra cui ad accompagnare una delle tante private cene dell'evento anche le suggestive note al piano di Nicola Valdarnotti a Ponte Muriano a Ponte Muriano a Ponte Muriano